Il seminario sportivo, come di consueto, ha aperto le danze del Trofeo Vanoni, gara internazionale di corse in montagna tra le più celebri e apprezzate del panorama italiano. Quest'anno il convegno, promosso dal CONI Sondrio Centro-CONI Orientamento e Avviamento allo Sport in collaborazione col CSI Morbegno e l'Istituto Comprensivo 1 di Morbegno, ha coinvolto l'universo scolastico. Erano presenti nove classi delle due scuole secondarie di primo grado di Morbegno. Una tematica fondamentale, quanto mai attuale, è quella proposta dalla relatrice Paola Selvetti, medico dello sport, la quale ha fornito preziosi consigli ai ragazzi per superare la sedentarietà che il Covid ci ha imposto, iniziando dalla BC dell'alimentazione. Il Centro-CONI è il centro proposto allo sviluppo dell'attività di base e quindi noi andiamo a coinvolgere tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Per noi non c'è dicotomia tra scuola e società sportiva, perché al centro mettiamo il bambino o il ragazzo. Gli antichi romani ci hanno insegnato che mens sana incorpore sano. Per poter star bene con gli altri devo star bene con me stesso, per poter star bene con me stesso deve funzionare la testa e il cuore, perché si possono funzionare, deve funzionare bene il corpo. E il corpo funziona bene se ho degli stili di vita corretti e un'alimentazione corretta. Oggi si mangiano cibi con troppi zuccheri, troppo sale, cibi non freschi, magari già preparati e questo non va bene. Quindi imparare a prepararsi noi il nostro cibo che lo mangiamo, così sappiamo cosa mettiamo dentro, che oli usiamo, perché purtroppo quelli preparati industrialmente si sa che non sono proprio così raffinati. Sono particolarmente soddisfatta quest'anno che tale convegno sia stato pensato e dedicato ai ragazzi, nello specifico su questo tema molto importante, cioè l'alimentazione sana e corretta che è necessaria, che sta alla base anche non soltanto delle giornate, degli impegni quotidiani di ogni persona, ma è necessario avere una buona alimentazione anche per svolgere bene un'attività sportiva. È scattato il conto alla rovescia per la superclassica morbeniese, edizione numero 64, in programma domenica. I primi a gareggiare saranno i giovani. Alle 9 è infatti previsto lo start del mini Vanoni, poi toccherà le donne alle 11. Gran finale con la gara staffetta degli uomini alle 14. Attese le superstar di questa disciplina, in ambito maschile fari puntati sul fresco vincitore della Coppa del Mondo di Corsa in Montagna, Henry Aimonod, ad assumere il ruolo di favorita ancora una volta la Francia, che l'anno scorso ha vinto definitivamente il trofeo per la seconda volta. A sognare in grande anche diverse squadre italiane, tra cui la SA Valchiese e la Re Castello Radici Gru. In campo femminile torna dopo due anni di attesa la keniana Lucy Murigi, con il chiaro obiettivo di diventare la donna più veloce di sempre al trofeo Vanoni. La nostra Alice Gaggi, tre volte vincitrice della corsa morbeniese, si presenta ai nastri di partenza forti di un'annata ad altissimi livelli, coronata con il terzo gradino del podio della Coppa del Mondo femminile. Ferma i box a causa della gravidanza Elisa Sortini, che qui vinse nel 2018 individualmente e l'anno scorso in coppia con Valentina Belotti. Grazie a tutti.